Gabriel Paolone a Ceravolturno, siete ormai pronti come Comitato Festa per la tre giorni dedicata al Santo Patrono Emidio. Ci vuoi illustrare il programma dei festeggiamenti? Inizieremo domani mattina con l'inaugurazione del Emidium Museum, questa mostra itinerante che ha finanziato e promosso l'associazione Santo Emidio nel mondo, associazione con cui l'8 dicembre scorso abbiamo siglato il protocollo d'intesa come comune emidiano, primo comune nella regione Molise e terzo in Italia. Quindi si è consolidato questo rapporto con questa associazione per promulgare e onorare il nostro Santo Patrono. Domani mattina quindi alle ore 11.30 presso l'ex sezione Primavera ci sarà il taglio del nastro simbolico e in quell'occasione appunto divulgheremo alla cittadinanza e ai presenti che vorranno onorarci della loro presenza il programma della tre giorni. Domani pomeriggio continuerà l'attività appunto celebrativa con la commedia in tre atti scritta da Pino Tommasone, la storia di un brigante che vedrà di scena appunto la compagnia teatrale dell'Elsa Onlus presso l'ex asilo comunale sito in via Aldomoro. I festeggiamenti proseguiranno sabato 12 giorno in cui si venera appunto Sant'Emidio in questa ricorrenza invernale dettata nel 1800 appunto dal grosso terremoto della Marsica che quindi fece venerare alle comunità che hanno come padrono Sant'Emidio questa ricorrenza. Ci sarà la messa e la solenne processione. Nel pomeriggio all'interno della chiesa dei Santissimi Pietre e Paolo si svolgerà il concerto dell'Epifania rinviato per le calamità appunto per la situazione nevosa che ha interessato tutta la valle del Volturno con il coro Totocorde alle ore 18.30. Mentre nella giornata di domenica a conclusione dei festeggiamenti terremo un convegno sulle tracce di Sant'Emidio sempre in collaborazione con l'associazione Sant'Emidio nel mondo dove parleremo appunto della vita del santo. Sarà mostrato un video che parlerà delle sue gesta e delle comunità a cui è devoto Sant'Emidio e la conclusione della serata con il concerto del Tratturo alle ore 19 presso sempre l'ex asilo comunale. La tre giorni appunto è ricca, intensa, prende tanti spunti e punti sulle tematiche della nostra comunità e quindi anche in un momento diciamo un po' particolare per la nostra comunità anche a livello parrocchiale abbiamo voluto onorare il nostro padrono con la speranza che appunto ci sia nel futuro una situazione migliore e conviviale per la nostra comunità.